Bella a tutti ragazzi, io sono Elvie e benvenuti nel mio canale Ragazzi oggi vi porto un video di una challenge molto 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 pericolosa E vi dico pericolosa perché ragazzi? Perché a me non è finita molto bene questa cosa qua Quindi vi raccordo guardatelo fino alla fine perché c'è un colpo di scena finale molto importante Dove appunto a me succede una cosa un po' spiacevole Continuate a seguire il canale, mettete like, lasciate qui sotto nei commenti sempre scritto Che altri scherzi volete vedere? Vi voglio bene Allora abbiamo un problema perché abbiamo un codardo perciò hashtag qui sotto se non lo fai in questo video Codardo che ha comprato la patatina più piccante del mondo solamente che poi in questo momento ha paura di mangiarla Ovvero Alvelyac Tutte la mangi Facciamo una cosa voi chiamate l'ambulanza la fate stare qua fuori No e vabbè ma l'ambulanza eccetera Se hai il coraggio l'hai comprata dov'è 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 In questo momento eccola qui ragazzi guardate è ancora sigillata e tutta chiusa È il momento Senti vieni a sedere qua Dai C'è poi il tavolo proprio per te Andiamo Vieni Adesso Mi fa male Ma che male Ascolta intanto tu Allora ne posso mangiare prima un pezzo No 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 Allora ascolta Tieni qua Tieni qua Di le tue paure di te perché non voglio io preparo già il latte e preparo anche il gelato Tieni qua Tieni qua Io ho paura di star male Perché hai paura Ma perché ho paura perché ho paura di star male Parla con loro e spiegali che tu mangi il piccante Allora io Io non ho flexato Io ho detto che io di solito Solitamente mangio il piccante Però adesso questa qua mi hanno detto che è molto molto piccante E quindi ho un po' paura Allora io posso mangiare prima un pezzettino solo No Hai questo? Hai il gelato che te lo puoi anche mangiare a morsi se vuoi Fare io di che ti preparo già la cosa di latte Alvea 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 Dai Paura Dai 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 Ti sei convinto vai vai Guarda che temporeggia Non riesco ad aprirla Dai perlo Ok Il guanto Il guanto è fondamentale in questo momento Questo è tosso nervosa Allora io tutta non la mangio No Mordila Allora Io ne mangio un pezzo Io ti dico che se il tuo video Ok In la spalla Poi mi pentiamo Arriva No lo scelgo Io questo bello mio No scusa Se il mio video No perché tu non hai prognato sul tuo Io faccio prognato sul mio Allora se il mio video Arriva a 5.000 like No Alve no Sono tanti No 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 Sono tanti Ma non è vero Ma non è bravo Nella prima ora li fai 5.000 Ma cosa stai dicendo Un compromesso 15 7.500 Allora intanto No tu devi fare il coraggioso Ti faccio un piccolo spoiler Stiamo scegliendo la moto Che mi deve comprare Perché lì L'hai detto tu A quanti E il video era mio E adesso ve lo dico io A quanto per farmela fare a me Ma non 15.000 per una patatina Quella era una moto fra 12.000 like 10.000 11.000 10.000 No 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 Uovo Uovo 10.000 like 10.000 Me la mangio anch'io Porca p***a Dopo quel profumo Lizio Te lo giuro Vai Senza pensare L'ho solo dorata Zì L'ho solo dorata L'ho solo dorata Te lo giuro E' lui E' lui E' lui E' lui Vai 3 2 1 Let's go Oh Sto già bruciando frate lo giuro Ti giuro Va bene va bene Ma anzi di anni Ecco ragazzi Primo piano che non vogliamo vedere con le emozioni No 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 prendi questo Non ti toccare Vatti subito a lavare le mani immediatamente proprio Madonna mi fai spaventare Se ti metti la mano negli occhi ti brasi Leccati il dito Leccati il dito Ok No 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 vieni qua non farò scemo Leccati il dito e prendi Vai No no metti in bocciuccia Ma fa la lava Moviti Tanto è uguale Adesso è vivo tutto Ma se la batti È potente Wow Questa qua è tanta E quello è c***o Pensa Quello lì fa questo Comunque è sopportabile Ho preso solo un pozzettino Ho preso solo Vai Oh che c***o fa Mi ero villato Oh il timer raga Oh un minuto Vai vialo vialo Si conta davvero in goia 8 Oh allora Mamma che roba Aspetta qua Vedi che prepariamo il gelato raga C'è un po' di gelato Fai andato il timer No no sto già andato Ma quanto sta? Sto a 50 Eh va vicinati qua Ok Davide me Davide me Sta andando Allora la sensazione è vuoto Fra Ma dai va che non ti ha fatto niente È sempre duro È vero raga Alve allora è vero Sempre un duro Sopporta 26 secondi ancora 26 secondi Facciamo che devi fare altri 30 Perché l'ho fatto partire un po' prima Sensazione a caldo È una roba Orecchie È troppo pieno Sì però tu lo sopporti bene Sì boh Eh tu fra lo sopporti bene Guarda come sta C'è il chakra 4 3 2 1 Finito Fai altri 10 secondi Un altro minuto riesci? Ah 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 La potenza Basta? No però comunque un minuto l'ha fatto Oh pensavo peggio Pensavo peggio Questo secondo me è tanta roba Questa com'è? Bastissimo Allevia Oh raga non parla più Non parla più No questo allevia Allora C'è un problema Qual è? Per un po' respirare Perché? È come se è raffreddore Ah sì Sono dalla bocca Vicina ti è vicina Così vediamo le vere espressioni Di Alve Dammi un fazzoletto Non mi guarda il 4 Lo ripreparo di nuovo Il brutto giro Oh meno male che c'è il gelato Perché secondo me l'acqua Cioè il latte basta Carica Caldo non fa niente Non fate la calda Ma secondo me il diritto Lo immaginavi peggio No No No? Ma di uno di gelato Di gelato Di gelato Sai cosa è che è tanta zio È proprio tanta Ma il picco di intensità Era fortissimo No E dopo? Arriva tutto di botto Pian piano Manco tu lo sai Non lo so È un crescendo Ma dai da qua Andami qua Sto prendendo Ma non panico Manca le labbra La sto muovendo Oh godicelo Perché qui è finito Appoggiali Appoggiali Andate a comprare il gelato No 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 Altro ce n'è Altro ce n'è Vai 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 Ancora Non era più difficile Cazzetto Ma non finisce più Adesso pizzica La bocca Pizzica È infiamme tutta Pizzica L'ho trovato figlio di p***a È incastrato nel dente Sto prendendo E poi lo continua a caricare No ce l'è ancora C'è ancora una patatina lì Vai io sono 34 anni Non posso fare questi video Capisci Sono un personaggio pubblico Ma come br***o Mi prego È arrivato a dicembre La che lo deve fare Mi scongiuro Non ci arriveremo mai ragazzi Oh io ho provato una puntina prima E ho sentito tipo un'esplosione Adesso seriamente Si parlo seriamente fratti Giuro che sto parlando seriamente Quando tu mi hai detto Ti aspettavi peggio No Non consiste Fa male Comunque è passata No fratti giuro no Ancora spinge Fra fa male Ma è costante come spinge Fra pizzica Bello a fare peggio Io ti dico che Io mangio piccante Io questo sapore qua Nella mia bocca L'ho già sentito Però Non lo fare fa Tu non lo fai No io Infatti Infatti non ci arriveremo mai A 10.000 like No non lo fare fa Perché ti fai male Io ragazzo Che arriviamo a 10.000 like Perché io lo voglio bere Un giro che fa male Si giuro Direi che speriamo di fare la fine Di questo video Ah certo Non arriviamo ai 10.000 like Allora ci vediamo Nel prossimo video con lui Quindi mi raccomando Arriviamo ai 10.000 like L'ha giurato Come io ho mantenuto Tutte le promesse Lui le manterrà E Ci vediamo nel prossimo video Raga Alve sta entrando Al pronto soccorso Perché si sente male Allora ragazzi Questo video lo faccio Questo messaggio Lo lancio per sensibilizzare Un attimino Anche i ragazzi più giovani Perché io stasera Dopo aver mangiato Quella patatina lì Non sto stato bene per niente Ho iniziato ad avere Dei fortissimi dolori allo stomaco Perché chiaramente Anche nella scatola C'è scritto Che se hai problemi intestinali O gastrointestinali Comunque non dovresti Mangiare questa patatina Qua Sono appena stato in ospedale Perché purtroppo A quest'ora Non avevo farmaci Per bloccare il dolore Per bloccare comunque Le sensazioni Che mi aveva lasciato Questa patatina qua Quindi ragazzi Io vi do un consiglio A volte per giocare Si fanno queste Queste Pugnate Perché sono Scusate ragazzi E evitate di farle Soprattutto evitate Evitate queste Scusate qua ragazzi Credetemi